Musica Questa sera concludiamo questo nostro viaggio, parliamo di Italo Svevo. A parlarne per noi abbiamo Luigi Mascheroni, il curatore della nostra rassegna, il giornalista delle Pagine della Cultura del Giornale, editore, curatore di mostre e scrittore. E' il professor Giuseppe Lupo che insegna teoria e storia della modernità letteraria all'Università Cattolica di Milano. E' uno scrittore, ha vinto tra gli altri il premio Viareggio e il premio Selezione Campiello e collabora con le pagine culturali del Sole 24 Ore. Lascia loro la parola e vi auguro buon ascolto. Eccoci. Grazie. Sì, grazie. Grazie, grazie all'Associazione Eureka, grazie al Comune Pordenone per l'ospitalità e grazie ovviamente a voi per la pazienza e il tempo che ci dedicherete stasera. Essendo il professor Giuseppe Lupo uno squisito accademico, oltre che uno straordinario intellettuale che sa chiacchierare molto bene di cose di libri e di scrittori, terremo, credo per ciò favorirà la serata, i famosi tre quarti d'ora accademici. Ok? Così è il tempo giusto. A me ha sempre segnato che dopo i tre quarti d'ora potrebbe parlare anche Francis Ford Coppola o Belen, ma dopo il calo di attenzione è fisiologico. Per cui non si scappa. Se hanno inventato la regola dei tre quarti d'ora è sacra. A me una breve introduzione, tocca una breve introduzione. Non voglio ripetere quello che già avevo detto la prima serata quando abbiamo presentato la rassegna, però senza ripetermi vorrei ritornare su quel concetto. Quando mi hanno chiamato chiedendo di pensare quattro incontri su libri ed autori, con questa idea che non si dovesse, per forza di cose anzi, legarsi al mercato, ai libri più venduti, agli autori mainstream, all'editoria mass market, ma che si potesse pensare a quattro incontri svincolati dall'ossessione di ogni assessore che ha di riempire la sala. Ma anzi, invece che pensare sulla quantità di entrate, pensare alla qualità dell'offerta, la cosa mi ha riempito di gioia. Perché è una cosa che non capita così spesso. Di solito c'è sempre questa idea di dover richiamare il pubblico. Quello dice uno che arriva, sono tornato ieri sera dal Salone del Libro di Torino, dopo averci vissuto per cinque giorni, che il Salone del Libro di Torino, per chi ama i libri, è una cosa meravigliosa. Ma è un po' come una pasticceria per chi adora i dolci, però al quarto cabaret non ce la fai più. Di solito dopo quattro ore del primo giorno sono già stufo. Quest'anno hanno battuto i record di ogni record. Voi immaginate che sono entrate 215.000 persone da giovedì mattina a lunedì primo pomeriggio. Ci sono stati giorni come venerdì e sabato in cui non ci si poteva muovere e ci sono, potete immaginare, tutti gli stand degli editori su quattro padiglioni, una cosa fuori misura, in cui c'è di tutto. Ma se, come dire, in qualche modo si pensasse per assurdo di selezionare tutta quell'offerta, secondo quei criteri minimi che si usano nelle pagine culturali dei giornali per selezionare i famosi 65.000-70.000 titoli fra novitari e stampe che escono ogni anno, portarli a quel migliaio scarso di cui un qualsiasi quotidiano, che sia il Corriere o il Sole 24 ore, riesce per questioni di spazio a dare conto nel giro di un anno, quindi portarli a 70.000, a meno di 1.000, si devono applicare dei criteri. Ecco, se si applicassero gli stessi a solo nel libro di Torino, salveremmo 5 stand e appunto un migliaio di titoli. Cosa che giustamente non si fa, perché il mercato vince sempre ed è giusto. Ma questa rassegna è qualcosa di molto diverso, cioè qui non c'era più una scommessa sulle entrate, ma sul tipo di proposta da fare. Allora io, giocando sugli anniversari, i 30 anni dalla morte di Testori, i 50 anni dalla morte di Flaiano, i 150 anni dalla morte di Manzoni e i 100 anni esatti in questi giorni dalla pubblicazione della coscienza di Zeno, ho pensato perché invece di, perché le rassegne dei libri sono bellissime, però perché invece di portare il solito psicologo, la solita Masterchef, il solito premio strega, proviamo a parlare di libri come si può intendere quando si ha in testa un'idea forte di lettura e di autori. Perché non possiamo parlare dei grandi autori classici che purtroppo per tutta una serie di motivi ci siamo un po' persi per strada. L'idea è piaciuta e questo è stato fatto. Ecco il senso di questa piccola rassegna. provare con questi incontri a far venire ancora la voglia di tornare non alle novità che riempiono il mercato editoriale, degnissime, degnissime, necessarie per far funzionare tutta la filiera del comparto editoria e giornalismo, ma recuperare appunto quei testi, abbiamo scelti quattro, quattro autori, non dico imprescindibili per la nostra cultura, perché si può vivere sempre senza niente. Però insomma, che hanno tracciato da Manzoni alla coscienza di Svevo, quello che in fondo siamo. Se siamo quello che siamo è anche perché c'è stato un romanzo che si chiama I promessi sposi, perché c'è stato uno scrittore non professionista, tutt'altro, che a un certo punto ha scritto la coscienza di Zeno e ha cambiato tutto dopo quel romanzo, perché c'è stato uno straordinario intellettuale, omosessuale ma cattolico come i testori, che ha scombinato le carte in tavola dagli anni 70 fino alla morte, almeno se non prima. Insieme a Pasolini sono stati due grandi intellettuali che hanno scombinato le carte della cultura italiana degli anni 70 in avanti e Flaiano che fosse solo per quanto di suo c'è nei grandi film che tutti abbiamo negli occhi, solo per le sceneggiature dei film e non dico dei libri, insomma, se siamo questo, se Fellini è quello, se noi siamo il paese della dolce vita, è anche e soprattutto per Flaiano. Quindi ecco l'idea, andare a ripescare chi ha fatto sì che siamo quello che siamo. Io mi fermo qua. Vi invito appunto a questa, non una lezione ma una chiacchierata con Giuseppe Lupo, che è un'italianista bravissima dell'Università Cattolica che io conosco sia come docente universitario, cioè italianista, sia come scrittore. Lui è scrittore, è stato al Campielle, non solo, ha vinto premi, ha scritto romanzi. L'ultimo, dico solo, una parola sull'ultimo. Fate un esperimento senza impegno. Voi prendete, se dopo avete tempo, quando finisce un attimo la presentazione, mentre la sala si svuota, le prime due pagine sono le biografie, le mini biografie dei personaggi che compongono il tabacco clan, cioè il gruppo di amici ridenominato tabacco clan. se le mini biografie di questi personaggi vi incuriosiscono, vi spingono a incuriosirsi alla storia, comprate il libro. Nel mio caso sono state vincenti. Quando ho letto quelle biografie ho detto, questo libro lo leggo. E invito a voi a fare la stessa cosa. E poi è anche, ecco perché la cosa lo avvicina a me, essendo io un giornalista culturale, è un collaboratore delle pagine culturali, dell'inserto anzi culturale del Sole 24 Ore, domenica, adesso diretto da Stefano Salis e che, cicli, ricicli della vita, è stata la redazione in cui io da stagista nel 1900, mi sembra, nel 1997, ho iniziato a fare questo mestiere. Quindi sono ancora più contento che ci sia lui qua. Io non disturberò con domande, a meno che non ne abbia veramente bisogno. E lascio parlare il professor Lupo. Fra 45 minuti esatti finisce la lezione. Va bene. Allora, io ringrazio, buonasera a tutti, io ringrazio Luigi Mascheroni per avermi invitato, ringrazio l'Associazione dell'ospitalità, ringrazio voi, insomma ringrazio tutti quanti di questo tempo, che speriamo che non sia un tempo buttato, io spero di no, penso di no, mi auguro di no. Proprio adesso, Luigi Mascheroni, Luigi Mascheroni parlava a Torino, mi sono domandato, mentre lui parlava, come si sarebbe comportato Italo Sveva a Torino? Cioè, immaginate Italo Sveva sotto i padiglioni del Lingotto, con quella folla che naturalmente è quella di cui dicevamo, cioè, come avrebbe reagito? Ecco, allora, io faccio questa proposta a voi, cioè, faccio questa idea, poi parliamo del libro, probabilmente Italo Svevo, cioè Ettore Svitz, si sarebbe rifiutato, cioè avrebbe avuto, me ne scappo, non voglio questa gente, non voglio queste persone, non voglio questo rumore. Zeno Cosini, che non è la stessa persona di Italo Svevo, cioè di Ettore Svitz, però, è il personaggio che ci sta, forse avrebbe reagito con la ironia che è la cifra del suo libro, cioè, avrebbe detto, ma guardiamoci queste donne che passano, che spassano qui davanti, sono belle, sono ragazze giovani, perché Zeno è un po' impertinente, no, sul fatto delle donne, avrebbe detto, ma tutta questa gente, dove va? cosa fa? Perché passa una giornata tra di stand, ciondolante, insomma, quello che è accaduto a Torino, Zeno l'avrebbe guardato, forse, con molto interesse, Ettore e Italo avrebbe detto, me ne vado, perché non è il mio mondo. Allora, adesso andiamo alla coscienza di Zeno. Libro che, colleghiamoci ancora una volta a Torino, Susanna Tamaro dichiara, l'avete immagino sentito, perché dover leggere i classici, perché leggere Verga, lei parlava di Verga, Verga e Svevo non sono la stessa cosa, sono abbastanza distanti, ma, insomma, dice, perché leggere i classici? Leggiamo autori e libri che sono più vicini alla sensibilità dei ragazzi. Ora, se scherzava, non lo so, se era seria, non lo so, sta di fatto che è una provocazione e tutti ne parlano. Però, perché leggere questo, perché avvicinarci a questo libro qui? Prima, Luigi Mascheroni diceva è un libro che ha cambiato le carte in tavola ed è vero. Perché? Innanzitutto, è scritto da una persona periferica, cioè, non un addetto ai lavori. Guardate che, spesso, la migliore letteratura del Novecento viene dalle persone non addette ai lavori. Primo Levi non era un addetto ai lavori, cioè, era un chimico, abbastanza vicino a lui per le storie delle vernici a Sve. Quindi, è una storia un po' che torna. Vi dico un altro nome di una persona che non ha detto ai lavori. Gadda. Gadda. Gadda, sì, lo ricordiamo come grande scrittore, grandissimo, ma Gadda è un ingegnere, cioè, la sua formazione non è umanistica. vogliamo dire ancora, io posso aggiungere anche altri nomi, vi faccio un nome che magari viene poco ricordato o meno conosciuto di Gadda e Levi, però io lo dico, Leonardo Sinisgalli, un ingegnere poeta che lavora nell'industria, ingegnere, spesso, il Novecento, cioè nel secolo passato. Poi non ti interrompo mai più, però, Tomasi Lampedusa, Tomasi, sì, capolavoro assoluto, però non era l'ultima cosa che non era certo uno scrittore in professione, non era certo un intellettuale. Ma se mi permettete, allora, ancora un'altra cosa che ha a che fare un po' con i vostri vittori, Mario Rigoni Stern, Mario Rigoni Stern, impiegato al Catasto, Mario Rigoni Stern scrive miliardi di lettere a Vittorini dicendo io voglio diventare giornalista, e Vittorini dice no, non diventare giornalista, con tutto il rispetto verso il mestiere di Gigi Mascheroni, perché non diventare giornalista? Perché tu correresti il rischio di diventare una persona che perdi che cosa? Questo interessa molto Vittorini. Perdi il rapporto che c'è, la distanza che ci deve essere tra la vita e l'hobby, la passione, la scrittura. se tu diventi giornalista e corri il rischio di dover scrivere con la pistola puntata sulla testa, non dice così, questo lo dico io, ma è il concetto di Vittorini, e sarai costretto a usare le parole in una certa maniera che ti faranno poi perdere il talento che hai. Tu devi scrivere, diceva Vittorini, a Mario Rigoni Stern, devi scrivere le cose che hai vissuto. La guerra. Scrivi la guerra. Non so. Fenoglio. Era un professionista? Non si è neanche laureato, insomma. Era uno che lavorava in una ditta di Vigni. Cioè, forse, è un azzardo dirlo, ma il miglior novecento passa non dagli addetti ai lavori. Certo, Calvino era addetto ai lavori, Pavese era addetto ai lavori, non c'è dubbio, cioè su questo non mi fraintendete, però, c'è un novecento interessantissimo, originale, che transita dalle persone, dagli scrittori che non vengono da lì, che non seguono la tradizione dei letterati, cioè non sono scrittori puri, devono vivere, devono cimentarsi con tante altre cose, e Sveo è uno di questi, forse è il primo di questi, del novecento, perché lui, sapete benissimo la sua storia, non è un letterato, è uno che si occupa di altre cose, ha tentato la via della scrittura molti anni prima dell'uscita di questo libro, ma gli è andata male, nessuno voleva pubblicare i suoi libri, li ha autofinanziati, fiasco, in successo, reazione, abbandona la scrittura, non vuole scrivere per vent'anni, e oltre non scrive più, lo dice lui stesso, ci sono le sue lettere all'editore di questo libro, che è di Bologna, ma anche agli amici, insomma, che poi non erano amici così indifferenti, cioè, essere amico di Joyce, qualcosa vorrà significare, insomma, gli dice, ma io non sono un letterato, non sono un esperto, lei non pensi che io sia, io vengo da un altro mondo, anzi, avevo addirittura detto che non volevo più scrivere, avevo abbandonato, poi però mi è venuta questa voglia, sono divinato vecchio, c'è sempre questo tema della vecchiaia, lui, io sono divinato vecchio, adesso ho bisogno, ho bisogno di scrivere, ho scritto queste cose, ma non ci credo nemmeno fino in fondo a quello che ho scritto, le lettere che lui manda all'editore, Cappelli di Bologna, sono le lettere di una persona, perdonatemi questo termine, ma vi chiedo di capirmi, ingenua, naif, cioè, nessuno scrittore oggi scriverebbe a un editore, le mando questo libro, ma io non so quanto questo libro vale, cioè, chi scrive una cosa del genere, oggi l'editore ti direbbe, e beh, ma se tu non credi in quello che scrivi, perché me lo mandi, perché dovrei credere io, ma lui scrive così all'editore Cappelli, e quando l'editore Cappelli gli risponde, guardi che lei ha fatto un libro che non è male, ci sarà da mettere le mani alla lingua, ci sarà da rifinire alcune cose, però, però il libro c'è, è molto originale, usa un termine, è fresco, freschezza, dice, è un termine, ha una sua freschezza, lui dice, ma davvero? Non lo sapevo, allora, ecco, questo è proprio il tipico atteggiamento di una persona di periferia, cioè uno che viene, non periferia geografica, periferia rispetto ai centri della letteratura, e rispetto alla tradizione della letteratura, primo discorso, secondo discorso, proprio perché viene dalla periferia, cioè non è uno a dette lavori, non è uno del settore, non è nemmeno uno che si possa aspettare di avere rapporti, i rapporti ce li ha, ma ce li ha con Joyce, poi sarebbe stato svelato al mondo da Joyce, che davvero gli fa un'operazione di totale amore, cioè smisuratamente ama questo libro e lo annuncia a tutti gli amici francesi, e da Montale, che ha avuto il merito nel 25 di capire questo è un libro che vale, questo è un libro che ha un valore europeo, e lo fa, lui deve ringraziare queste due persone, però a Montale non arriva per interposto, cioè ci arriva perché glielo mandano, ci arriva perché molto semplicemente Montale è un interlocutore che riceve i libri per fare una recensione, pulito, senza commistione, e Montale è quello che, come Joyce, crede nella sua storia. Beh, perché dicevo, secondo discorso, perché dicevo è uno che ha cambiato le regole in gioco? Facciamo questo ragionamento, fino all'ora, più o meno, fino all'Ottocento, il romanzo, cioè dire romanzo, voleva dire in Italia un'altra cosa, voleva dire i romanzi di Verga, gli stessi romanzi, l'unico romanzo di Manzoni, ecco, voleva dire una tradizione che andava De Roberto, aveva scritto un libro importante che è il vice re, più o meno negli stessi anni in cui Svevo scriveva Una vita e poi Senilità, insomma, nel 94, cioè, voleva dire un'opera unitaria, il romanzo era l'unità, era, poi c'è le confessioni di un italiano, ancora, ma era una unità, cioè, era qualcosa che corrispondeva al personaggio unito, compatto, finito, finito, proprio questo voglio dire, finito, il termine giusto, il personaggio che è un ritratto, voi pensate ai ritratti che fa Manzoni, pensate ai ritratti di Verga, sono tutti personaggi descritti dalla cima dei capelli alla punta delle scarpe, compatti. Prima di lui, Pilandello, comincia a mettere in discussione questa modalità, ma la coscienza di Zeno rompe questa unità, cioè, non è un romanzo compatto, non è un romanzo su un, è un romanzo su un personaggio, però è un romanzo su un personaggio scomposto, cioè, la scomposizione, il parente più vicino a questo tipo di sensibilità è il cubismo nell'arte, cioè, vedere una stessa scena da più prospettive contemporaneamente. E questo spiega perché Picasso scompongono e fanno personaggi con molti occhi, questo è quello che sta facendo, ma lui non lo sa, ovviamente, o meglio, lui si interessa di questioni che hanno a che fare, questo dopo, dopo che ha abbandonato la scrittura ed è libero di, si interessa di questioni che hanno a che fare con questa psicanalisi, si interessa di questioni che hanno a che fare con la coscienza, queste cose nuove, all'epoca nuove, che naturalmente Trieste sentiva, perché Trieste era, faceva parte non dell'Italia, ma faceva parte di quella cultura che aveva a che fare con il diretto contatto con Vienna, insomma, e lì c'era questo, lo zio Sigmund, insomma, che naturalmente è una presenza forte in questo libro, tant'è vero che il dottore è il dottore S, scrivi, scrivi perché così guarisci, ma da cosa guarisco? E lui si continua a domandare, e continua a domandare anche scrivendo, ma io devo guarire? Sì, io sento di essere malato, ma forse c'è un personaggio che è più malato di lui, lui è malato immaginario, quello è malato vero, lui dice, ma io ti invidio che sei malato vero, poi quello muore, e poi lui dice, ma io sono contento che, voglio dire, tu almeno sei morto per una causa vera, io sono malato, ma non so di cosa sono malato, e questo è un discorso che intercetta il grande problema dell'inizio del secolo, la malattia, la malattia che non ha nome, il dolore muto, il dolore muto, tant'è vero che lui anche in questo diventa capofila di una linea che da lui va a Gadda e da Gadda va uno scrittore non lontano da qui che è Giuseppe Berto, il maloscuro di Berto, Gadda, la cognizione del dolore che esce nel 63, ma lui la scrive negli anni 30, quindi una quindicina d'anni dopo questo libro, poi Berto, nel 64, il maloscuro, tant'è vero che c'è proprio una linea sembrerebbe strano come questa linea sotterranea esiste nel 900, è una linea che avrà anche altri interlocutori, per esempio pensate Alberto Bevilacqua è uno che ha lavorato su questa linea qui, non lo sappiamo ma c'è un Bevilacqua che va, però c'è questa linea sotterranea che è la linea di questo come lo chiamiamo, Montale gli ha dato un nome, no? Cioè il male di vivere, però il male di vivere è questo, è il maloscuro, è l'incapacità, è il non sapere perché, come, quando e tutto nasce da un problema del fumo, il fumo, il tema del fumo ovviamente è l'inizio. C'è una frase che dice il dottore a lui, a Zeno, scrivi e tornerai unito che è una frase molto io la reputo importante, tornerai unito, scrivi e tornerai unito. Che vuol dire scrivi e tornerai unito? È esattamente questa idea della scomposizione, questo è scomposto, è un personaggio che ha diviso, scisso, separato da che cosa? Da se stesso, forse da se stesso, dalla sua memoria, dalla sua infanzia, dalla sua coscienza, insomma, ci sono molti modi per essere divisi. E lui dice, scrivi che tornerai unito, che io lo leggo come un atto di grande fiducia nella scrittura, nel racconto delle storie. se tu racconti le storie non solo guarisci ma addirittura torni a essere uno, cioè ritorni a essere quello che erano i personaggi dell'Ottocento, cioè i personaggi di quando dire a un'opera romanzo voleva dire un mondo. Il cardinale Borromeo nelle Promessi Sposi è un personaggio unito, unitario, non so se mi faccio capire, l'innominato descritto da Manzoni è un personaggio unitario. Anche Massimo Don Gesualdo descritto da Verdi è un personaggio unitario. E invece nel Novecento questo secolo benedetto, bellissimo, problematico, però per quanto mi riguarda affascinante, io sono innamorato del Novecento, gli altri secoli non mi piacciono, cioè mi piacciono di meno, onestamente, ma il Novecento lo amo. io lo amo. Il Novecento secolo problematico c'è questa idea dei personaggi che si decompongono, si scompongono, si dividono e dividendosi i personaggi si divide anche la scrittura. Noi in Italia accade qualche cosa di incredibile, per questo questo libro, perciò questo libro è dentro il secolo nuovo, cioè dentro il Novecento e l'interpretazione autentica di quel Novecento. E c'è un rapporto di simbiosi, l'unità dei personaggi, l'unità delle opere. Io con un'opera voglio dire tutto, io con un personaggio lo racchiudo nella sua interezza. si rompe l'unità delle opere si rompe l'unità del personaggio e qui abbiamo infatti sei capitoli che si possono anche leggere non con quell'ordine lì ma un ordine inverso perché tanto a fin fine sono storie di per sé abbastanza autonome. Cambiando l'ordine non cambia molto il senso del discorso. La stessa cosa noi non potremmo fare se cambiassimo l'ordine dei promessi sposi. Come ci raccapezzeremmo se leggessimo il capitolo ventunesimo e poi il secondo e poi il trentasettesimo e poi non ci raccapezzeremmo. Qui possiamo farlo invece. Qui possiamo farlo perché sono capitoli indescambiabili perché sono capitoli tematici ma sono capitoli che testimoniano questa rottura. Nei confronti della quale o per vincere la quale devi scrivi racconta poi alla fine del libro uno ci domanda ma Zeno ci credeva a questa terapia? No. Lui dice ma io ma quando mai non ci credo proprio anzi sono peggiorato anziché migliorare poi Zeno è un po' anche come dire molto ironico cioè è una persona capace di essere di scherzare anche con se stesso di scherzare con le malattie ci sono dei passaggi allucinanti quanto per esempio non so se lui incontra la famiglia della futura moglie e la figlia una delle bimbe una delle sorelle gli dice ma tu sei pazzo e glielo continuano a ripetere e lui dice no ma io sì faccio una figlia c'è tutta questa storia della follia ci sono dei discorsi allucinati ma uno dice ma come è possibile che faccia questi discorsi lì ma sono discorsi di una persona che come dire non crede nella scienza cioè non crede nella nuova scienza non crede nel feticcio della psicanalisi questo è non crede nel feticcio della psicanalisi diffida di quello che gli dicono che gli dice il suo medico crede molto nella vita e poco nell'interpretazione della vita ecco questa è l'impressione che io ho sempre avuto di questo libro crede molto nella vita nella vita anche come devo dire in una vita casuale in una vita fatta di casualità in una vita fatta di incontri fatto e però nell'interpretazione di questi incontri quando l'interpretazione diventa troppo rigida applicazione di regole lì comincia a diffidare questo per esempio è una cosa che è comune a Primo Levi Primo Levi crede nella chimica ovvio però però della chimica non è che crede fino in fondo nelle regole rigide ecco nella rigidità delle applicazioni delle regole cioè c'è una poesia nelle regole esiste la come devo dire la deviazione dalle regole e anche qui esiste una deviazione dalle regole della psicanalisi per cui si permette di dire adesso non scrivo più niente e vado avanti da solo riprendo a fumare faccio le mie cose e quindi disubbidire al medico e il medico poi si vendica nella maniera che sapete adesso io ti pubblico mi hai mandato di cosa ti pubblico e vediamo qui per cui c'è questo gioco c'è questo gioco il libro è un diario diciamo un blocnotes di una persona che tenta di capire se stesso di risalire alla sua infanzia ma che tutto sommato non ha mai scritto per pubblicare e il medico che si vendica del suo paziente deontologicamente è un fallimento perché non si dovrebbe mai fare una cosa del genere voglio tornare un'altra volta sul tema della frammentarietà perché questo secondo me è un passaggio fondamentale nel novecento ora perché diventa frammentare la scrittura e perché diventano frammentari i romanzi lo possiamo immaginare il novecento è un secolo fragile è un secolo affascinante ma fragile entra nella fragilità entra con tutto il fracasso del neo avanguardia il fracasso di questi giovani che vogliono rompere con la tradizione vogliono ribellarsi è una ribellione è una guerra è la generazione dei figli che non vogliono più rispettare i padri e questo ce l'ha insegnato voglio dire lo zio Sigmund di nuovo cioè devi ammazzare i padri per poter affermarti come uomo altrimenti ecco questo è il novecento che entra così ed entra questo secolo che si presenta come il secolo delle certezze tecnologiche scientifiche si entra come il secolo della fragilità sono tutti malati sono tutti quanti malati chi è malato nell'anima ma chi è malato nel corpo è un secolo che inizia col tema con l'ossessione della malattia che diverte per cui uno dice ma questo secolo dove va dove vuole andare e poi c'è la guerra la prima guerra che poi rivelerà ancora di più questo tema della malattia che mina che mina mina ora quello che abbiamo perduto con l'inizio di questo secolo con l'inizio di quel secolo non l'abbiamo più riconquistato questo è un po' paradossale cioè questo tema dell'unità noi non abbiamo più avuto romanzi ottocenteschi non abbiamo più avuto personaggi che ha cioè scrittori che hanno tentato un ritratto totale del personaggio e non abbiamo nemmeno più avuto storie unitarie abbiamo perduto questo discorso qui cioè voglio dire facciamo diamo un nome a questo discorso il modello Manzoni l'abbiamo perso infatti il romanzo storico in Italia nel novecento pochissimi l'hanno frequentato il Gattopardo è un romanzo storico ma è un romanzo storico a frammenti cioè è un romanzo storico che non è ottocentesco ma non è unitario ora questa incapacità di dare origine a una unità dove porta? è davvero segno di debolezza? forse no forse no forse il personaggio di Zero Cosini proprio perché è così proprio perché va dicendo al mondo che è malato probabilmente questa è la soluzione che gli permette di salvarsi cioè è paradossale quello che sto dicendo ma proprio perché lui sta continuando a ripetere che è malato che è malato che ha problemi quella è la vera forza che permette al personaggio di non morire anzi questo è un personaggio vincente sbaglia tutto sbaglia tutto nella vita però è quello che praticamente vince sbaglia il matrimonio come si sposa? come si sposa? si sposa amando un'altra donna non ama sua moglie peraltro sceglie delle quattro ragazze la più brutta quella che ha l'occhio storto cioè strabica però si deve essere la donna più diciamo non più la migliore donna che lui potesse sposare quello che la più l'ha capito l'ha amato l'ha condiciso amava una donna si dichiara con la sorella no e lui dice no non voglio allora lui per disperazione o per scherzo si dichiara l'altra ragazza l'altra sorella anche questa dice ma stai scherzando parli con me guarda che tu ami Augusta no ma io non amo Augusta ma sì ma tutti lo sanno e si trova imbarcato con questa storia di Augusta sbaglia e si trova male la questione commerciale cioè la ditta quindi là c'è anche il tema della borghesia no che è un tema molto mitte europeo questo dimenticavo di dire ma dobbiamo dirlo questo è il primo romanzo mitte europeo che c'è in Italia forse non ce ne saranno tanti nel novecento i romanzi mitte europei con l'impia con come dire con la sensibilità di uno scrittore mitte europeo ebreo quindi il mondo ebraico il mondo mitte europeo il mondo borghese perché lui è un borghese figlio si imparenta con i borghesi traffica con borghesi apro parentesi e chiudo parentesi pensate quanta poca fortuna ha avuto nel novecento il romanzo borghese non ci sono romanzi borghesi la borghesia imprenditoriale in Italia non è stata raccontata nel novecento è stata raccontata un'altra borghesia ma non quella imprenditoriale e lui invece fa un romanzo su un personaggio borghese che si dedica agli affari e anche in questo caso il cognato fortunato vincente bravo brillante sbaglia tutto lui invece che indovina tutto cioè per cui per questo vi chiedevo all'inizio cioè poco fa ma siamo sicuri che sia davvero così fragile Girozeno Cosini o non sia una persona che ha capito come affrontare il secolo ecco questo secondo me è un discorso che va fatto lui ha capito come bisognava affrontare il secolo il novecento non lo devi prendere di petto se lo prendi di petto ti vince ti sconfigge il novecento è un secolo se lo prendi di petto se lo affronti di petto come il toro ti vince lo devi prendere in un'altra maniera lo devi aggirare lo devi prendere con l'ironia lo devi prendere con lo scherzo lo devi prendere con la superficialità forse anche con i discorsi un po' folli che lui fa vi ricordate quando va a casa del futuro del suocero no? quanti discorsi folli fa si inventa le storie che non sono vere dice un sacco di bugie è un bugiardo dice bugie ovunque è un personaggio in fido cioè voglio dire non affidabile però forse questa è la soluzione per vivere il novecento per non dico per vive perché lui in realtà poi non lo vive nel novecento sia perché Italo Svevo cioè Ettore Smith muore nel ventotto ma insomma per passare indenne alle turbolenze di quel secolo particolarmente come devo dire sì turbolento dai diciamo così come un aereo che attraversa le turbolenze lui è così ha capito come fare voglio dire ancora altre due cose ce la facciamo se noi otteniamo dieci possiamo non voglio esagerare dalla vostra pazienza però insomma secondo me è un libro che va affrontato così la storia delle quattro sorelle che è poi una storia anche divertente no la storia delle quattro sorelle lui tutte con la lettera A c'è questo libro che ormai pochissime persone conoscono e che non so quante persone le quattro ragazze Wieselberg questo è un libro di una scrittrice di origine abruzzese anzi abruzzese Fausta Cialente che poi sposa un marito che si chiama Terni non è di Terni ma si chiama Terni ma è un marito però che è un diplomatico che gira insomma è una figura un borghese questo libro vinse lo strega nel 1976 le quattro sorelle Wieselberg è la storia di una famiglia la famiglia Wieselberg che vive a Trieste poi da Trieste è una è un affresco familiare da Trieste i discendenti vanno via fino ad arrivare a Roma non vi racconto la storia ma il primo capitolo di questo libro si ambienta nella Trieste di fine 800 più o meno la Trieste in cui vive e abita Zeno Cosini cioè Ettore Smith racconta la Fausta Cialente che la famiglia Wieselberg si componeva di quattro sorelle eh quattro sorelle tutte però con un piccolo variante tre avevano un nome che iniziava con la A e manca a farlo apposta dice ma allora è quello lì la quarta si chiamava si chiama Elsa l'unica che differisce nel nome quindi non come lui ma questa Elsa che era una suonatrice era una ragazza brillante da cui poi discente la la scrittrice e nonostante non fosse proprio lei l'ultima depositaria era il 1872 quindi e nonostante non fosse proprio lei l'ultima depositaria dell'iniziale che era toccata alle sue tre sorelle non la è e non la ha fu proprio quella che all'incirca diciottenne ai balli della famosa società filarmonica triestina ebbe più volte l'occasione di danzare col signor Ettore Schmitz un signore che la fanciulla non degnò di un'eccessiva attenzione o considerazione perché non era come lei giovane e bello era soltanto molto molto simpatico e una così brava e retta persona solo che molti anni dopo nella coscienza di Zeno ecco il protagonista del romanzo apprende con stupore che le quattro figliuole malfenti avevano tutti i nomi dell'iniziale in A una cosa praticissima secondo lui il padre perché le cose su cui era impresa quella iniziale potevano passare dall'una all'altra il risparmio dovevano risparmiare i vestiti e quindi A vale per tutte e quattro senza aver da subire mutamenti un iniziale che lo colpì aggiunse molto più di quanto meritasse e molti anni ancora sempre questa Elsa dovettero passare lo scrittore già vecchio salire a fama mondiale quindi dopo che ha pubblicato la coscienza di Zeno dopo che il 25 scoppi il caso Svevo che poi lui non avrebbe di cui non avrebbe goduto perché poi muore nel 28 e sostanzialmente non gode della sua e poi morire e la superstite cioè la ragazza Ersa fatta ormai donna alla quale non era stata concessa l'iniziale delle sue tre sorelle molto vecchia anche lei ormai si prendeva la faccia nelle mani e quasi ridendo esclamava ma chi l'avrebbe detto ma che potevo sapere io di quello con cui stavo danzando quando Svevo diventa famoso nel mondo io ho ballato con questo signore quando io ragazzo allora la strana alchimia e anche la strana magia che le storie dei libri hanno uno non andrebbe mai a pensare che in un libro scritto da una scrittrice abruzzese ci fosse la presenza di Ettore Schmitz e non di Zero Cosini ma è Ettore Schmitz insomma quindi ci siamo capiti che va a ballare con una ragazza che apparteneva a una famiglia di quattro sorelle di cui tre tutte e tre con lo stesso iniziale del nome tranne lei e quindi è chiaro che lui probabilmente si sarà ispirato a questa famiglia Wieselberg per pensare alle quattro sorelle che compongono la famiglia Malfenti cioè la famiglia del suocero ecco su questa cosa voglio chiudiamo poi magari se ci sono delle domande vi rispondo con molto piacere la strana la strana come dire la storia delle immagini e la storia dei personaggi che rimbalzano dal libro all'altro senza necessariamente che ci sia parentela tra i libri perché ripeto non c'è parentela tra questo libro che non ha pubblicato nel 76 quindi molto molti anni dopo e la coscienza di Zeno ecco allora per questa strana congiuntura le idee i personaggi le situazioni i racconti delle storie ritornano si moltiplicano si si travasano da un libro all'altro e vanno a finire poi chissà dove e noi ci immaginiamo che per esempio la storia della malattia di Zeno Cosini rimbalza nella storia del la cognizione del dolore e poi rimbalza nella storia del maloscuro di Berto anche del maloscuro di Berto c'è il personaggio che dice io che col suo psicoanalista dice ma questo oh non ci credo ma cosa vuole da me vuole parlare ma poi non sa che insomma c'è un rapporto anche lì di grande conflittualità la storia strana di Svevo dimenticato no dimenticato scrittore fallito quando voleva farlo scrittore scrittore di successo quando aveva perso ormai tutte le speranze per diventare scrittore e poi però la strana congiuntura di un uomo che non gode a lungo di quello che aveva conquistato ora per tornare al discorso della Tamaro che era quello da cui siamo partiti perché leggere i classici a questa domanda ha risposto Calvino ha scritto un libro Calvino prima che morisse ha scritto il libro Calvino e molto più efficacemente di me ha indicato perché leggere i classici quello che ha detto Calvino negli anni 80 funziona ancora oggi ci sono mille ragioni per cui leggere i classici e lui risponde non hanno mai finito di dire quello che hanno da dire e una serie di tante cose ecco se c'è una ragione a quelle cose che dice Calvino io voglio aggiungere no non mi permetto di aggiungere non mi so intendente non voglio non ho la possibilità di aggiungere nulla a quello che Calvino ha detto perché da già tanto quello che ha detto però c'è un perché c'è una storia solo i classici hanno la capacità di reggere la distanza nel tempo allora questo libro scritto da uno scrittore non professionista con una lingua abbastanza elaborata non elaborata ma abbastanza capricciosa non piaceva a Calvino la lingua di Svevo non piaceva molte letterate la lingua di Svevo perché era una lingua di questo libro qua in particolar modo perché era una lingua un po' ruvida ruvida non del tutto è un libro su un personaggio spaccato diviso non completo non unitario cosa ci dice a noi ci dice esattamente le stesse cose che avrebbe potuto dire o che ha detto alle persone contemporanee che l'hanno letto cioè noi siamo per esempio questa espressione qui per molto tempo rimasi nella religione della mia infanzia questa è la frase che cita Zeno ma è la frase che noi possiamo continuiamo tranquillamente a citare oggi esiste una religione dell'infanzia da cui noi ci stacchiamo più o meno problematicamente cioè è un libro che ci dà la possibilità di spiechiarci dentro di trovare qualcosa di noi qualcosa della nostra come dire della nostra identità è anche qualcosa che secondo me è una regola che ci aiuta anche ad affrontare la modernità essendo complicata essendo complessa e labirindica la devi affrontare come l'affrontava Zeno Cosini non la devi pigliare di petto la devi prendere di lato obliqua questa per esempio secondo me è una regola che io insegnerei ai bimbi a scuola ai ragazzi ai giovani nelle università cioè c'è una regola che viene fuori da qui prendiamo la modernità la complessità non di petto come fa lui e forse questa è una maniera sarebbe una maniera per poter resistere a questa modernità a questa complessità del moderno tu l'hai accennato tu l'hai accennato ma sarebbe stata la prima domanda che ti avrei fatto io poi se qualcun altro saremo felicissimi che è un aspetto che quando si parla di romanzo e di letteratura mi sta molto a cuore cioè quello della lingua sì ecco perché perché in fondo anche in quel in questo cambia le carte in tavola o comunque qual è la novità se c'è da un punto di vista linguistico della coscienza di Zeno allora proprio per il fatto che lui non è un professionista ecco eh vedi basta proprio per il fatto che lui potresti tu infatti sto proprio dicendo non credo sia un caso che tu prima hai citato Gadda che forse la persona che in assoluto usa meglio in tutte le sue sfumature in tutte le sue complessità la lingua italiana non sia un letterato puro ma un ingegnere esattamente cioè non so se è un caso no no non è un caso ma perché evidentemente delle strutture del linguaggio che non seguono che seguono le regole le strutture del linguaggio di un non letterato o di uno che non ha fatto studi letterari sono probabilmente le più efficaci per aggredire o per avvicinarsi o per descrivere o per rappresentare più che aggredire mi piace rappresentare una dimensione una condizione umana una dimensione umana e questo lui ha una lingua imperfetta è quello lui ha una lingua imperfetta è una lingua che quella è la sua forza credo esattamente sporca 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 ma infatti l'editore dice noi dobbiamo levigarla proprio usiamo questo tema qua cioè come se usasse la pialla no di un falegname che deve eppure non ci riesce del tutto e lui dice sì ma io cerco di impegnarmi però 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 i letterari successivi la lingua di Gadda la continueranno a ritenere imperfetta ripeto Calvino lo dice no proprio per quello Calvino che è una persona che ha una lingua no limpida pulitissima trasparente quasi invisibile la lingua di Calvino è una lingua quasi invisibile è la lingua che generazione e generazione di scrittori italiani hanno continuato a usare ed è l'unica vera cioè per vincere lo strega devi usare quella quella lingua lì sì e poi uscire dal Calvino ha parole molto dure nei confronti di Gadda di Sveo dice vada non sa scrivere non sa scrivere è un direttante ma è proprio questa la forza cioè non è vero che per avere un libro importante efficace un capolavoro ci deve essere forse una lingua trasparente pulita levigatissima controllata controllata equilibrata e anche meditata cioè può anche esserci una lingua sporca anzi anzi torniamo a una regola che è del novecento in cui credo di più le contaminazioni sono più importanti della purezza e questo non lo dico io ma lo dice ancora una volta Primo Levi nel sistema periodico dice ma bisogna diffidare della purezza perché la purezza la purezza anche linguistica la purezza del pensiero meglio le contaminazioni meglio ciò che ma da quel rovinarsi il tema della vita genera altra vita è un discorso anche religioso quello che fa Primo Levi però il miglior novecento è quello sporco ora non mi fraintendete quando dico sporco non intento lo novecento pornografico intendo novecento contaminato cioè fatto da scrittori che vengono da altri mondi e che portano nella pagina sulla pagina altri mondi anche la sporcizia la ruggine le imperfezioni degli altri mondi questo è il novecento questo è il miglior novecento per me questo è il novecento che ci ha insegnato e che forse richiesta di più forse adesso allarghiamo troppo il campo però stavo pensando mi facevi questo discorso che anche qui sarà un caso ma i due testori per esempio che inventa tutta un'altra lingua certo dialettale la lingua del gergo popolare il latino maccheronico i dialetti infatti per esempio tornando un'altra volta a Calvino testori Calvino non amava il dio di Roserio mentre invece Pasolini si trovavano ma anche Vittorini ama il dio di Roserio perché quella è una lingua nativa è certo cioè una lingua nativa valeva quella del Pasolini delle Borgate certo una lingua ingenua una lingua poi dico l'ultima cosa che forse si allarga troppo però in questa prospettiva forse può avere significato che i due giganti assoluti riconosciuti credo ormai trasversalmente dalla critica come il maggior scrittore inteso come il scrittore di prosa e il maggior poeta del novecento siano uno Céline che è un medico certo e l'altro è Pound che se c'è uno che è una scrittura di contaminazione assoluta è lui e poi possiamo raggiungere un'altra cosa forse questo l'ho detto in modo un po' veloce ma magari lo ritorno a sottolineare la dimensione europea di questo libro è certo cioè la dimensione europea noi eravamo abituati a una letteratura una narrativa molto italiana piena di questioni italiane piena anche di quel provincialismo italiano no qui hai un respiro perché le questioni che lui pone Trieste è una città europea non è una città italiana cioè non è non appartiene a quella dimensione di Italia ancora città europea questioni italiane questioni europee che sono quelle della psicanalisi che allora era ecco oggi scrive un libro sull'intelligenza artificiale cioè erano le grandi questioni urgenti del momento questa apertura non è facile per la letteratura italiana che con tutto il rispetto è stata molto provinciale sì rimane molto italiana rimane molto imbevuta di cose italiane e di temi italiani e di situazioni italiane questa c'era una voglio dire questo libro l'ha scritto uno che abitava a Trieste ma lo poteva scrivere uno che abitava a Vienna o poteva scrivere uno che abitava a Monaco la dinamica sarebbe stata uguale voglio dire un un Musil un Elias Canetti cioè è un libro che ci sta e pensate ancora un'altra cosa le pagine relative al rapporto col padre la morte del padre questa stranissima morte questo rapporto di odio amore problematico lo schiaffo del padre che dice che non dice nulla ma dice tutto lui che si lamenta per molto tempo rimasti nella religione no egli era morto ed io non potevo provargli la mia innocenza guardate che dramma che c'è in questa frase il padre muore io non posso dire che era innocente perché è ormai morto l'inesprimibilità c'è una cosa che torna sempre qui dentro è non potevo dire non sapevo dire non riuscivo a dire no le parole non sono mai totali sono sempre parziali sono sempre dette a metà c'è qualcosa che magari rimane di non detto e anche questo è molto novecento ecco ma questo tipo di discorso beh questo rapporto col padre è Kafka che di nuovo evoca il mondo mito europeo più o meno contemporaneo no Kafka muore nel 24 ebraico borghese cioè siamo lì le angosce le angosce la solitudine l'angosce il tempo il tema del tempo questi sono lui se la vede con il sogno con questo triangolo qui Kafka Canetti Musil Mann ha un respiro forte non è italiano ed è stata la sua fortuna o meglio la sua fortuna voglio dire la sua questa dimensione che ha avuto è così è così fa delle questioni pone delle questioni che appartengono a geografie che sono oltre le Alpi e questo lo fa un classico se siete d'accordo dato che poi i libri sono quelli dell'autore e bisogna tornare sempre al libro leggerei l'ultimo paragrafo del libro che vale come non so che ne so l'addio Monti di Manzoni cioè la pagina una delle tre quattro pagine più importanti più famose della letteratura italiana credo che quando tu hai detto l'importanza dei classici che questa frase poteva essere letta con angoscia nel 23 ed è guardate il senso di angoscia che ci trasmette oggi 100 anni dopo esatti è l'ultima frase dell'ultimo paragrafo della coscienza di Zeno forse attraverso una catastrofe inaudita prodotta dagli ordigni ritorneremo alla salute quando i gas velenosi non basteranno più un uomo fatto come tutti gli altri nel segreto di una stanza di questo mondo inventerà un esplosivo incomparabile in confronto al quale gli esplosivi attualmente esistenti saranno considerati quasi innocui giocattoli ed un altro uomo fatto anche lui come tutti gli altri ma degli altri un po' più ammalato ruberà tale esplosivo e si arrampicherà al centro della terra per porlo nel punto dove il suo effetto potrà essere il massimo ci sarà un'esplosione enorme che nessuno udrà e la terra ritornata alla forma di nebulosa errerà nei cieli priva di parassiti e di malattie sembra la fine di un romanzo distopico Orwell per esempio o i romanzi degli anni 30 degli anni 50 sull'invasione dei marziani sembra il pianeta irritabile di Paolo Volponi che è un romanzo del racconto della terra dopo l'esposizione nucleare la forza di suscettare un angoscio una paura una preoccupazione che non ha tempo che è la forza dei classici se non ci sono domande io vi ringrazio tantissimo dell'attenzione e appuntamento ai nostri prossimi incontri grazie grazie grazie